C'è da sognarsi sul calendario a data del 3 aprile 2022 perché è tornato il Gran Premo di Argentina nel Moto Mondiale lo ha fatto in un modo incredibile e storico perché c'è la prima volta di una casa italiana in MotoGP che trionfa davanti a tutti e c'è anche la prima vittoria di un pilota in tutta la carriera del Moto Mondiale non parliamo per una volta di Ducati ma l'Italia rimane sempre protagonista per quanto riguarda le case costottici perché nel Gran Premo di Argentina di domenica ha trionfato a Elesi Spargaro su Aprilia davanti a Jorge Martins su Ducati quindi due case costottici italiani sul podio e terzo Alex Rins su Suzuki per una gara della MotoGP che vede per la terza volta consecutiva tre piloti diversi sul podio, segno del grandissimo equilibrio in questa stagione 2022 la vittoria però è storica appunto nell'Argentina perché come dicevamo all'inizio Elesi Spargaro non solo conquista la prima pole position per Aprilia nella top class ma la confezione la regala alla grande ai tifosi della casa di Noale perché partendo dalla pole position arriva alla prima vittoria in carriera peraltro frutto di un grandissimo duello con Jorge Martins che si riscatta dopo due gare abbastanza deludenti è una gara sorprendente quella di Elesi Spargaro una gara sorprendente comunque per un'Aprilia che si era trovata bene fin dalle qualificazioni in un contesto peraltro abbastanza particolare dove le moto sono arrivate in ritardo di conseguenza il sabato in Argentina sono tutto condensato con due sessioni di prove libere e subito le qualificazioni in questo marasma, in questo caos mi verrebbe da dire del Autodomo del Termas di Riondo alla fine è spuntato l'Aprilia, è spuntato l'Alesi Spargaro e ha collezionato qualcosa di clamoroso, una favola per una casa che fino a praticamente a qualche anno fa navegava nei bassi fondi della classifica, è arrivato l'Alesi Spargaro che comunque ha portato la moto in top 10 e già quest'anno ha fatto il salto di qualità, le dichiarazioni di Massimo Rivola a D di Aprilia erano comunque incoraggianti perché si aspettava di certo una vittoria ma di certo non così presto e soprattutto non al terzo gran premio della stagione che regala peraltro all'Aprilia la leadership del campionato piloti un qualcosa di clamoroso, un qualcosa di peraltro meritato perché Alesi Spargaro ha veramente condotto una bella gara e qui lo vediamo nel post podio con appunto il Massimo Rivola di qui sopra un Alesi Spargaro che appunto ha sempre fatto tanta gavetta in MotoGP c'entra la prima vittoria della carriera a partire dalla pole peraltro non, come dire, capitalizzata alla grande fin dall'inizio perché comunque per la ghilata della gara era in testa Jorge Martino su Ducati Prama che alla fine poi Alesi Spargaro ha avuto il grande merito di riprendere il pilota spagnolo e poi superarlo a quattro giri dalla fine per arrivare a questa storica prima vittoria e di conseguenza è festa grande annuale e non solo per la prima vittoria in top class dell'Aprilia che comunque, ripeto, fin dall'inizio si è sempre trovato bene in questo circuito perché anche in qualificazione basti vedere Vignales che l'anno scorso era in apprendistato in Aprilia ha fatto top 5 e per la prima volta di fatto da quando Aprilia era entrata nella classe regina nessuna Aprilia era nelle prime 5 posizioni segno che anni e anni di gavette, anni e anni di lavoro hanno portato i loro frutti e mai mi sarei sognato di dire in un racing podcast che dopo tre gare l'Aprilia e Alesi Spargaro andavano al quarto appuntamento stazionale negli Stati Uniti con la leadership del campionato del mondo per un campionato MotoGP che in generale è talmente tanto equilibrato che in ogni pista possono cambiare i valori in campo e qui lo vediamo perché come accennavo prima per la terza volta consecutiva ci sono tre punti diversi sul podio a sto giro vince Alesi Spargaro per il quale suona la marcia reale ma la marcia reale sono anche per gli altri due atleti del podio perché sono entrambi spagnoli seconda posizione per Jorge Martín che dunque si sblocca dai due zeri iniziali e terzo Alex Rins che non fa una gara incredibile ma fa una gara sorgnona mi verrebbe da dire sfruttando anche la caduta di Paulista e Spargaro che avrebbe fatto poi a modo di vedere a Termas de Riondo e comunque piazza la terza moto diversa sul podio per una MotoGP che ha piazzato sul podio Aprilia, Suzuki, Ducati e tutte le altre marche che volete di conseguenza c'è tantissimo equilibrio e di conseguenza attenzione ai piazzamenti e attenzione ad arrivare alla 21esima gara del campionato nel mondo una gara incredibile, storica per certi punti di vista in un campionato peraltro che non vede nessun tipo di campione mi verrebbe da dire l'unico che potrebbe azzardarsi a definirsi campione è Marquez, ma Marquez evidentemente non c'è causa i postumi della caduta in Indonesia e di conseguenza c'è spazio per gli altri spazio per l'equilibrio e spazio per questa classifica Alex Spargaro dopo un quarto posto sorprendente in Qatar in una gara dove ha limitato i danni in Argentina vuole al primo posto nel campionato nel mondo MotoGP e va a 45 punti in leadership del mondiale Alex Rins fa terzo e di fatto conquista la top 5 del campionato MotoGP Orge Martin invece è nono ma attenzione perché Orge Martin sembrava l'unica Ducati competitiva ma poi ne parleremo nel capitolo delugioni del giorno la Suzuki in ogni caso fa per quanto riguarda gli altri piazzamenti un po' di importante con Rins ma fa anche un altro piazzamento importante ovvero il quarto posto di Juan Mir che appunto si dimostra ancora una volta più piazzato che un vincente ma attenzione perché in un campionato così equilibrato come questo un piatto come Juan Mir può sicuramente saltare fuori una gara che ancora una volta ha mischiato tantissimo le carte in tavola abbiamo visto tre vincitori diversi nelle prime tre gare due moto ufficiali su tre hanno trionfato e non sono mai la Ducati e questo è veramente sorprendente hanno trionfato la KTM ufficiale con Oliveira oggi After The Music in Argentina e ha trionfato Alexis Parguro che questa è sicuramente la vittoria più sorprendente di tutti la moto clienti che invece ha vinto fu quella di Enea Bastenini nella prima gara in Catarma sappiamo come effettivamente la Ducati abbia avuto vantaggi sempre nella pista araba gli altri piazzamenti abbiamo detto Juan Mir quarto quinto è Francesco Bagnaia che ha limitato i danni si può dire in questo modo anche se in realtà ha dovuto fare una gara di rimonta per una Ducati che è assolutamente deludente l'unica Ducati competitiva in questa pista era quella di Jorge Martin e a tratti quella di Juan Zarco ma Zarco è caduto altrimenti probabilmente parlavamo di un altro piazzamento per il francese la Ducati ufficiale deve sicuramente darsi una scantata come c'è dalle mie parti e provare sicuramente a rimontare in un campionato dove non c'è un campione ben definito e non c'è una moto prevalente su quell'altra se la Ducati vuole puntare al titolo del mondo assolutamente deve raccogliere decisamente di più dei piazzamenti inesistenti visti nelle ultime due gare ovviamente parlo di Ducati ufficiale le Ducati clienti paradossalmente vanno molto meglio e anzi che continuino così sesto posto per Brad Binder che comunque ancora una volta fa punti e come dicevo per Mir attenzione a Binder perché su una KTM così competitiva può sicuramente trarre giovamento da un campionato così equilibrato dove non c'è un vero e proprio dominatore sudafricano sarà da tenere d'occhio soprattutto in quelle piste dove ci saranno condizioni di bagnato estremo o comunque piste molto tecniche e vedi per esempio Austria e altre piste che vedremo nel calendario settima posizione per Maveric Vignales assegno che questa apriglia sulla pista di Argentina ha sicuramente fatto la miglior gara della carriera da quando era entrata a pieno regime in MotoGP Vignales ha fatto quinto in qualificazione vero ha perso delle posizioni come abitudine ma non ha di fatto strafatto al contrario è arrivato in top 10 punti importanti per un pilota che ripeto è arrivato l'anno scorso in apprendistato ma già il segno che la moto sia competitiva lo si vede anche dalla crescita di Alessio Parguero verso la vittoria e di costruenza anche di Vignales verso la top 10 ottavo Fabio Quartararo il campione del mondo in carica torna un po' nell'anonimato del Qatar dove ha fatto nono evidentemente è questa la dimensione del pilota francese con una Yamaha che anche questa volta raccoglie veramente le briciole non ha posizione per quanto riguarda la gara di Argentina e per Marco Bezzecchi la miglior sorpresa evidentemente di questa gara di Argentina il miglior rookie al traguardo nono in rimonta peraltro partiva in fondissimo Bezzecchi compice una moto non così tanto competitiva eppure in gara Bezzecchi ha dimostrato un gran bel passo gara e di conseguenza punti meritatissimi per colui che viene dalla Moto2 e chiude la top 10 quello che era il leader del campionato del mondo fino alla gara di Indonesia anche se ovviamente non è da considerare secondo me in lotta per il titolo perché Nea Bastianini ha una moto inferiore ma comunque ancora una volta ha punti e di conseguenza terza posizione del mondiale ma era veramente difficile fare di più con una Ducati che appunto è vero il team Prama che ha fatto bene ma in generale è una Ducati che si lecca un po' le ferite e di conseguenza i piazzamenti di Bezzecchi di Bagnaia in qualificazione anche di Miller quando era in gara evidentemente sono il valore vero di questo Ducati mentre su questa pista altre moto altre case hanno fatto meglio discorso diverso magari sarà già a Austin, Texas prossimo appuntamento stagionale e non mi sorprenderebbe vedere qualche rimescolamento di carte visto la grande propensione al motore della Ducati con quel rettino lunghissimo la Ducati può sicuramente ragionamento vedremo se si confermerà KTM si confermerà Suzuki e se Yamaha potrà che sollevarsi dalle ceneri in ogni caso è una gara di Argentina che ancora una volta fa testimoniare che questa MotoGP è tanto equilibrata e sarà molto divertente vederla perché se tutte le gare ci sono tre moto diverse sul podio la gara si deciderà a Valencia per quanto riguarda il mondiale di quest'anno a differenza magari di altre categorie che sembrano già più ben indirizzate verso un possibile candidato ma ne parleremo evidentemente nelle altre categorie parliamo adesso degli altri italiani che hanno fatto abbastanza fatica mi verrebbe da dire perché Tolto Bezzecchi e evidentemente Basterini gli altri che vediamo in classifica Morbidelli si ritira sfortunatissimo il pilota italo-brasiliano si ritira per un problema tecnico ma per una Yamaha che anche in questo caso finisce after the music si ritira anche Andrea Dovizioso per un problema all'abbassatore di fatto Dovizioso la gara non la fa perde due giri alla fine rientra ultimo ma è stata una gara per fare esperienza si ritira anche di Gian Antonio anche qui per un problema tecnico l'altro italiano che rimane di fatto da elencare è Luca Marini che fino a due giri dalla fine era in top 10 e alla fine era in top 10 ma comunque di squadra una buona prestazione per il team Muni VR46 passiamo adesso ai piazzamenti ai premi per quanto riguarda la MotoGP per il rider del giorno e la delusione del giorno diamo due distinzioni perché Alessio Spargerò per quello che ha fatto per il incredibile percorso che ha fatto con l'Apriglia si merita senza dubbio il premio di rider del giorno tradizionale perché comunque un'impresa del genere su Aprilia con pole giro veloce è segno che in questa pista l'Apriglia era la moto da battere in particolare il pilota spagnolo o meglio era il pilota da battere l'altro rider del giorno che voglio citare è però Marco Bezzecchi perché rimedia una qualificazione disastrosa ma complice un ottimo passo gara come dicevo prima rimonta fino a nona posizione per il miglior risotto in carriera in MotoGP fino a questo momento in tre gare segno di una grande costanza perché dall'ultima posizione di fatto in Indonesia di fatto recupera e arriva a punti i primi punti in carriera per il 72 la delusione del giorno anche qui è duplice perché se l'anno scorso c'erano due contendenti al titolo del mondo che erano Quartarrow e Bagnaia che se la potevano giocare tutte le gare a prescindere dalla pista a sto giro i due leader dell'anno scorso fanno veramente tanta fatica e sono veramente after the music limita i danni in qualche modo Quartarrow ma che sta soffrendo tantissimo una Yamaha che è assolutamente la delusione dell'anno per il momento che sono passate tre gare però vedere una Yamaha così indietro che ha fatto un podio un po' per grazia ricevuta mi verrebbe da dire in Indonesia e poi torna nell'anonimato nelle altre due gare è veramente incredibile calcolando che l'anno scorso Quartarrow guidava sopra i problemi di questa Yamaha che comunque si dimostra una moto al momento non all'altezza chi mi deludi di più e parlo anche da tifoso è la Ducati in particolare l'altro contender Francesco Bagnaia perché in Qatar pista favorevole si è ritirato in Indonesia ha preso le piste è arrivato per un pelo in zona punti ok che è anche caduto però non è questa la posizione che ci deve attendere da Bagnaia che punta dichiaratamente al titolo del mondo in questa gara di Argentina ha fatto comunque meglio limitando i danni di rimonta facendo quinto ma ha cannato la qualificazione Bagnaia per arrivare al titolo del mondo non deve cannarmi le qualificazioni a fare tutte le volte gara di rimonta vero che in generale la MotoGP è molto equilibrati quindi anche partito dietro puoi anche fare podio però ripeto quattordecisimo Bagnaia in tre gare è veramente una grossa grossa delusione sperando che subito però si possa rimediare già nel circuito delle Americhe a Austin, Texas che sarà l'appuntamento prossimo il 10 di aprile peraltro in contemporanea con Formula 1 e Superbike un gran bordello come al solito complimenti che organizza i calendari di questi tre grandi appuntamenti motoristici passiamo però adesso alle altre categorie velocemente con Moto2 e Moto3 se MotoGP è un campionato molto equilibrato la Moto2 è l'unica categoria delle tre che per il momento ha un chiaro e solo vincitore ovvero Celestino Vietti del team VR46 che in tre gare ha fatto secondo come peggior risultato anche qui la vince col giro veloce partendo da dietro perché Vietti partiva quarto in seconda fila in qualificazione e non è facile in questa Moto2 dove abbiamo visto già piloti partire molto bene e creare gap fin dall'inizio Vietti fa una gara a capolavoro vince la seconda gara su tre dopo quella del Qatar e dunque per lui suona Fatale d'Italia o il canto degli italiani se preferite il nostro in nazionale per colui che ha 70 punti su 75 disponibili dopo tre gare è in dubbio come in questo momento Vietti sia l'uomo da battere dunque attenzione perché è vero che si può fare tre gare ma il campionato Moto2 sembra già abbastanza indirizzato e speriamo che Vietti possa portare a casa il suo primo titolo in generale fra tutte le classi seconda posizione per Somkhiat Chantra autentica sorpresa di questo inizio di stagione con una gara in meno è terzo a 45 punti a meno 4 da Aaron Canet che fa quarto in Argentina Somkhiat Chantra si è sbloccato definitamente dopo la grande vittoria di Indonesia dove di fatto ha scherzato gli avversari e qui fa un'altra grande gara arrivando al secondo podio consecutivo e al secondo posto ovviamente prima del trionfo in Indonesia non c'era mai stato un podio tailandese in qualunque classe della moto mondiale terzo è Ayugura e dunque il team Asia fa di fatto festa perché è doppietta per uno dei grandi piloti secondo me di questa moto 2 che non si vede molto spesso è più impiazzato che un vincente Ayugura ma comunque sesso, sesso e terzo in tre gare è un ottimo andare per colui che si è adattato alla stragrande in questa moto 2 gli altri piazzamenti e parliamo velocemente dei favoriti che potevano essere indicati all'inizio del campionato moto 2 Sam Laws deludente decimo Augusto Fernandez fa una curva e si stende e Fernandez secondo me aveva grandi chance secondo me di vincere questa gara ma ovviamente non avremo mai la controprova per quanto riguarda gli altri piazzamenti e passiamo agli italiani Antonio Arbolino sesto ed è l'ultimo di fatto l'unico italiano in zona punti oltre Celestino Vieti tutti gli altri finiti fuori dalla zona punti chi per ritiro chi sia per piazzamenti abbastanza rivedibili passiamo alla moto 3 dove evidentemente qui c'erano già fin dall'inizio due contendenti a titolo del mondo disegnati ovvero García e Foggia e García e Foggia fanno primo e secondo nella gara di Argentina al termine di una grande competizione vince Sergio García con una moto gas gas che è assolutamente competitiva e riesce non solo a vincere ma a prendersi anche la leadership del mondiale García era indietro nella classifica rispetto a Dennis Foggia che era il leader fino alla gara di Indonesia García aveva duellato con il secondo compagnolo di squadra Izan Guevara che poi però dovrà ritirarsi per un problema tecnico alla fine poi il gruppo riesce a raggiungerlo Foggia è primo prima dell'ultimo giro ma alla fine con un grandissimo sorpasso all'ultima curva lo spagnolo vince e di conseguenza per lui suona la marcia alleare battuto Dennis Foggia che comunque è secondo ma ha solo i 4 punti e subito per il pilota romano c'è una grande chance di rifarsi subito in terra di Stati Uniti terza posizione invece per Ayumo Sasaki un pilota che ha raccolto solo un podio a fronte di 3 gare ma è un pilota da tenere assolutamente d'occhio perché in Qatar era iper primo e si è dovuto aiutare proprio i tecnici è caduto in Indonesia e qui fa un podio incredibile perché ha subito anche un long lap penalty all'inizio della gara per via di un incidente che ha coinvolto Andrea Minho proprio in Indonesia e quindi questo podio è molto significativo segno che anche qui Sasaki probabilmente l'avrebbe anche potuta vincere o quantomeno avrebbe potuto competere per il podio si ritira Andrea Minho secondo zero consecutivo per quanto riguarda gli altri italiani per un contatto con evidentemente Kauwe Masia colpa di Minho peraltro per inciso gli altri italiani abbiamo undicesimo Elia Bartolini che sta facendo una grande stagione con il nuovo team del QJ Moto ha vinto la racing team gli altri italiani sono di fatto fuori dai punti eccezione fatta per uno strepitoso Riccardo Rossi che comunque con la moto di Paolo Simoncelli il 658 racing team fa una strepitosa quarta posizione segno che anche qui pian piano il Piatta Genovese sta crescendo sempre di più tutti questi piloti li vedremo a Austin Texas per il Gran Premo degli Stati Uniti che sarà il 10 di aprile ovviamente sarà una grande giornata di motorsport perché come accennavo prima al netto che i calendari sono fatti in modo molto approssimativo abbiamo Formula 1 alla mattina alle sette in Australia Superbike che comincia finalmente da Aragon quindi Spagna alle 2 e poi alle 8 gara della MotoGP e categorie di contorno da Austin Texas i racing park saranno così tutti i visi ci sarà la Formula 1 domenica probabilmente verso pranzo se non riesco verso il solito orario delle 19 il giorno dopo parleremo della Superbike evidentemente sempre di sera come quest'orario e poi il giorno dopo qualora si sa recuperare tutte le gare quelle degli Stati Uniti di Austin Texas tutto un trionfo di motorsport per questa classifica di MotoGP che vede la sorprendente Aprilia di Alessio Spargarò primo sia nel campionato team evidentemente dietro Ducati sia evidentemente nel campionato più alto che è quello che conta di più il saluto da parte di Mestri Torgard ci vediamo a un prossimo video